I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 2,4 kg di cocaina nascosta in un'autovettura sottoposta a controlli nei pressi di via Jafar. L'uomo fermato aveva subito mostrato segni di agitazione e insofferenza. I militari hanno quindi effettuato una più approfondita attività di ispezione del mezzo, trovando, grazie al fiuto del cane antidroga e femmina del gruppo pronto impiego di Palermo, due involucli di plastica trasparente sottovuoto abilmente nascosti in un doppio fondo ricavato all'interno della portiera posteriore destra dell'autovettura. Lo stupefacente, qualora emesso al mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 200.000 euro. Il Corriere di Nazionalità Italiana è stato condotto presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo a disposizione della locale Procura della Repubblica. Continua senza sosta l'attività della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti per la tutela della sicurezza economico-finanziera dei cittadini, mantenendo costantemente alta la guardia rispetto al fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento della locale criminalità organizzata. Grazie all'intensificazione del presidio sul territorio e controlli presso il porto di Palermo e lo scalo aeroportuale di Punta Raisi, dal gennaio 2021 sono stati complessivamente sequestrati circa 50 kg di cocaina che erano destinati a rifornire le piazze di spaccio della città.